Non trascorrerà la notte alla diaccio il nucleo familiare sfrattato ieri mattina per ordine della Procura della Repubblica di Barcellona da un alloggio dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari di Fiumarella di Milazzo, occupato abusivamente. I giovani di Forza Italia, presenti con una delegazione capitanata dal coordinatore provinciale Federico Raineri, si sono accollati il costo di una camera d'albergo, almeno fino a quando il sindaco di Milazzo Giovanni Formica non li riceverà e non troverà una soluzione. La posizione dei sigilli all'appartamento è avvenuta nel pieno rispetto delle regole, nessuna tensione, anche se non sono mancati momenti di sconforto per gli occupanti e per i loro vicini solidali con loro. La protesta si è spostata poi davanti al comune di Milazzo, dove i manifestanti hanno chiesto in vano un incontro con il sindaco. Nel pieno rispetto delle decisioni delle autorità giudiziarie, chiediamo al sindaco di Milazzo di intervenire tempestivamente e trovare una soluzione a queste oltre 30 famiglie che rischiano di essere sfrattate, perché lui è il rappresentante, lui è colui che li deve tutelare, quindi noi chiediamo subito, tempestivamente, un incontro con il sindaco che non faccia l'orecchia da mercante e alle forze politiche di opposizione sul territorio diciamo che noi ci stiamo impegnando sul territorio, facciamo la politica sul territorio e non la facciamo nelle sedi della Camera dei Deputati. Per cui siamo qui, siamo in mezzo alla gente e dobbiamo risolvere i problemi della gente e non cercarli solo in occasione di scadenze elettorali.